Francesco Bellino, agenziaria. Mister, volevo un giudizio sull'intesa tra Milik e Vlaovic e se può ancora migliorare. L'intesa è stata buona, ma non è che c'è da migliorare a loro, c'è da migliorare a tutta la squadra. Comunque stasera non era una partita semplice perché venivano da un mese senza vittorie e quindi la tensione sicuramente era molto alta. Invece i ragazzi sono stati molto bravi perché hanno giocato una partita di grande compattezza, di grande intelligenza, di grande pazienza. Per un tempo abbiamo concesso praticamente niente, a parte gli ultimi cinque minuti dove potevamo gestire un pochino meglio la palla. Però direi è il primo passettino, ora bisogna continuare a lavorare in silenzio perché mercoledì abbiamo una partita non semplice, che è quella con il Maccabi, che comunque è una squadra che è fisica, è una squadra che lotta e che per batterla bisogna fare una buona partita. Marco Venditti, signora mia calciagnosa, buonasera mister. Si comincia a intravedere in fondo al tunnel un po' di luce. Una Juventus che ha giocato bene e due giocatori in particolare per quanto riguarda l'attacco Milik e per quanto riguarda Rabiot. Sembra che questa sera abbiano dato quel qualcosa in più, quella cattiveria in più. Però una Juve calma, tranquilla, non la raffona come in passato. Grazie. Ma infatti ai ragazzi le avevo chiesto solamente di fare una partita semplice. Nessuno di loro doveva strafare, sono stati molto bravi a mettere uno a servizio dell'altro. Infatti siamo stati molto più vicini alla palla, abbiamo fatto più contrasti. Milik ha fatto una buona partita, Rabiot è rientrato, ha fatto una buona partita, è andata anche due o tre volte a tiro. Io credo che Rabiot è un giocatore che ha raggiunto un'ottima maturità nel giocare sia tecnicamente che anche fisicamente. Tecnicamente secondo me il momento che riuscirà a trovare il gol diventerà ancora più bravo. Però direi che tutti hanno fatto veramente bene. Quelli che hanno iniziato e quelli che sono entrati, che è una cosa molto importante. In questo momento abbiamo 12 partite, l'ultima mezz'ora con 5 cambi le partite possono cambiare. Stasera sono stati molto bravi. Buonasera, Ministro Filippo Consiglio del Corrierello Sport. Le chiedo se a livello personale le hanno dato fastidio i fischi all'inizio quando hanno letto i nomi delle formazioni. Ecco, al suo nome sono venuti un po' di fischi dallo stadio. Se le aspettava, se le è andato fastidio, se sono ingenerosi. Io credo che in questo momento qui bisogna essere bravi a superare anche questo, a riportare l'entusiasmo che serve. Io credo che quando... L'ho detto ieri in conferenza, dopo nove anni che una società vince, quando ritorni a non vincere, tutti devono fare qualcosa in più, perché l'abitudine è vincere. E vincere è una cosa straordinaria, non è una cosa normale. Soprattutto è una società che l'ha fatto per nove anni. Quindi per noi è una grande sfida cercare di portare l'Eventus a vincere, ma non è facile, perché c'è la concorrenza, perché comunque è numericamente impossibile vincere tutti gli anni. Ma questo non vuol dire non lavorare con passione e metterci grande impegno per far sì che l'Eventus possa tornare a vincere il più presto possibile. Questo fa parte della vita, è ciclica. Un po' piacere, non piacere, ma è così. E però i ragazzi sono stati bravi. Alla fine i tifosi hanno apprezzato la... Tra l'altro i tifosi sono sempre molto vicini alla squadra, hanno apprezzato la vittoria, hanno apprezzato la prestazione della squadra, però questo per noi deve essere la normalità. E quindi bisogna lavorare col profilo molto basso e continuare a stare in silenzio. Buonasera Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. C'è stato un avvio, ci si poteva aspettare un avvio un po' più forzennato, come una squadra che deve un po' risalire la china, no? Non è stato così, l'aveva un po' programmata così, oppure si è visto anche qualcuno dei difetti recenti? Grazie. Fortunatamente non abbiamo fatto l'avvio forzennato, perché l'avvio forzennato poi dopo se non riesce a fare i gol, dopo perde distanze. In questi momenti qui la squadra ha veramente dimostrato una grande maturità, in questi momenti quando non vinci da un mese, la prima cosa che fai va in campo, vorresti spaccare tutto, ma non rie, non puoi, perché se poi ti vanno male cose, ti allunghi, perdi di certezze. Invece la squadra ha fatto una partita a velocità di crociera, ha fatto il gol, non ha concesso niente. Ripeto, gli ultimi 5 minuti del primo tempo mi sono piaciuti meno. Detto questo ci dobbiamo migliorare tanto, sta migliorando la condizione fisica e soprattutto stanno rientrando quasi tutti i giocatori, soprattutto per far ricoperare quelli che hanno giocato molto di più. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Alla vigilia avevi parlato di gestione diversa degli imprevisti. Questa sera bisogna dire che gli imprevisti li avete cancellati per meriti vostri. Avete corso meglio di più delle scorse volte, secondo te? Tra l'altro noi delle squadre potenziali che possano vincere il campionato, credo a numeri, non so se mi hanno dato un numero sbagliato, siamo una di quelli che ha corso di più, quindi vuol dire che abbiamo corso male. Stasera la squadra ha corso meglio perché è stata più compatta, è stata con più attenzione in campo e non ha voluto strafare. Tutti sono messi al servizio del compagno, questa è la cosa più importante. Benvenuti, benvenuti nel mio canale, questo era praticamente un sunto della conferenza stampa di Massimo Allegri nel post partita Juventus-Bologna 3-0. Mi raccomando, iscrizioni al canale, campanella attiva è importante, è assolutamente fondamentale. Allora, vittoria che ci voleva, vittoria che dà morale, vittoria che danno fiducia. Certo è che non è che risolve tutti i problemi, però sicuramente fa qualcosa, comincia magari a muoversi qualcosa, come ha detto il mister, cominciamo a recuperare anche qualcuno, magari tra un po' Pogba, forse chiesa, non si sa, si vedrà. Adesso comunque testa al Maccabi, si cerca di portare avanti anche il discorso in Champions, per poi sabato pensare anche alla prima della classe, che al momento è in Serie A, che è il Milan, sabato alle 18 a Milano. Detto questo vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, iscrizione è importante, fino alla fine, sempre e solo, forza Juve!